Anno bisesto, anno funesto. Questo è un proverbio che è conosciuto sicuramente da tutti. Sta a indicare che gli anni bisestili sono portatori di sfortuna e avvenimenti particolari e il 2020 anno in corso sembrerebbe confermare questa diceria che risalirebbe all'epoca romana. Ma perché si dice anno bisesto, anno funesto? Sicuramente è una superstizione però un po' ci crediamo tutti. Allora partiamo dal fatto che gli anni bisestili secondo il calendario gregoriano hanno 366 giorni e non 365. La scelta di utilizzare il termine funesto in Italia è perché fa rima con bisesto. Non c'è nulla di scientifico, diciamolo subito, ma l'origine dell'espressione sembra risalire alla tradizione popolare, in particolare al periodo romano. Nell'antica Roma, infatti, febbraio era il mensis feralis, mese, ossia dedicato ai defunti. Nel 1400 il nonno di Savonarola disse che i bisesti erano nefasti. Deriverebbe da lì questa espressione e che avrebbero distrutto greggi e vegetazioni. Vi dice qualcosa appunto quando parliamo di anno bisesto? Purtroppo sì, perché il 2020 lo è e di conseguenza subito la nostra mente va al coronavirus, l'evento che ha caratterizzato fin da subito questo 2020. Quindi vogliamo ripercorrere con voi questa prima parte dell'anno attraverso delle parole chiave, quelle che abbiamo utilizzato tutti noi tantissime volte. La prima è proprio coronavirus. Non c'è nulla di nuovo da dire se non che vogliamo fare un piccolo recap. I primi casi hanno coinvolto principalmente i lavoratori nel mercato di Wuhan, siamo in Cina, in cui si vendevano pesci e altri animali, anche vivi. Nelle prime settimane di questo 2020 gli scienziati hanno individuato proprio in questi soggetti strane polmoniti causate da nuovo coronavirus. Alla fine del gennaio 2020 non erano state ancora ben determinate le caratteristiche del virus, sebbene fosse accertata la capacità di trasmettersi da persona a persona e restavano anche molte incertezze sulle modalità di trasmissione. La prima segnalazione attribuibile al nuovo virus è avvenuta il 31 dicembre 2019, quindi dobbiamo tornare proprio all'ultimo giorno dell'anno scorso, ma già all'8 dicembre erano comparsi i primi pazienti con malattia sintomatica e poi arriviamo proprio all'inizio del gennaio 2020 quando le autorità hanno disposto la chiusura del mercato e l'isolamento di coloro che presentavano dei segni e sintomi dell'infezione. Il primo decesso confermato risale al 9 gennaio 2020, al 28 gennaio si registravano più di 4.600 casi di contagio confermati in molti paesi del mondo e 106 decessi, mentre il 15 febbraio questi dati erano già saliti a 49.053 casi e 1.381 decessi. L'altra parola l'abbiamo già nominata mentre parlavamo appunto del coronavirus è Wuhan. Il 31 dicembre del 2019 proprio le autorità sanitarie avevano notificato un focolaio proprio nella città di Wuhan, siamo nella provincia dell'Hubei in Cina, quindi un focolaio di casi di polmonite. Molti dei casi iniziali hanno riferito proprio un'esposizione a questo mercato di cui parlavamo prima. Andiamo avanti, lockdown, altra parola, se vogliamo raccontarla a livello di etimologia si intende isolamento, chiusura, blocco d'emergenza, usato anche come aggettivo, separato, isolato dall'esterno al fine di essere protetto e abbiamo compreso benissimo tutti, anche se è un termine inglese, che cosa significhi, potremmo usare anche la parola quarantena, stessa cosa. Andiamo avanti con la parola mascherina. Le mascherine sono diventate un po' il simbolo a reti unificate del periodo del coronavirus, usate per illustrare, perché anche questo va detto, quasi tutti gli articoli di notizie proprio dell'emergenza coronavirus, sono state utilizzate le icone su whatsapp oppure su tutti i social network, nei progetti degli illustratori. Le ricorderemo anche per gli infausti inizi, la caccia alle mascherine infatti rimarrà sempre nella nostra memoria. Possiamo ricordare i cartelli fuori dalle farmacie, mascherine esaurite, non si trovavano, c'era la caccia alle mascherine, oltre al prezzo che era veramente elevatissimo nella prima fase dell'epidemia. Altra parola, tamponi. La rapida diffusione dell'epidemia di covid-19, lo abbiamo ricordato proprio all'inizio di questa pillola, ha causato la crescente necessità di diagnosi rapida nell'infezione da parte del nuovo coronavirus responsabile della sindrome respiratoria, per evitarne naturalmente la diffusione attraverso il contenimento dei soggetti positivi. Altra parola, guanti, i guanti monouso ovviamente, non i guanti invernali, anche questi sono diventati un po' il simbolo di questa epidemia di coronavirus e anche questi a tratti sono diventati quasi introvabili nelle farmacie. E poi c'è tutto un giallo, un mistero intorno ai guanti, sono utili, proteggono? Per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità a un certo punto li ha sconsigliati, i guanti usa e getta, nonostante abbiano fatto parte delle nostre vite per un po', sono stati definiti anche dannosi dall'OMS, cioè che in qualche modo potessero trasmettere ancora di più le infezioni. Andiamo avanti, arriviamo a termini economici, puramente economici, crisi, recessione. È da quando l'epidemia del coronavirus ha cominciato a far parte delle nostre vite che si sono fatte stime e previsioni su quello che sarebbe potuto accadere all'economia, ovviamente delle stime sempre provvisorie, perché ancora, soprattutto all'inizio, non si sapeva quanto sarebbe durata questa epidemia e oggi non sappiamo se arriverà una seconda ondata. Fatto sta che gli ultimi dati sul PIL, e ci riferiamo solo a quelli italiani perché questi dati ovviamente negativi riguardano tutto il mondo, parlano della peggiore recessione del dopoguerra. Si è parlato fin da subito della peggiore crisi sanitaria, della più grave crisi sanitaria del dopoguerra, ora questa previsione è stata confermata da ulteriori dati. Andiamo avanti con le parole più utilizzate di questo inizio anno 2020, vaccino. Ancora non c'è il vaccino contro il coronavirus, però ci sono più di 165 vaccini contro il coronavirus in fase di sviluppo o di sperimentazione, questo in giro per il mondo, in uno sforzo senza precedenti per trovare una soluzione che possa contribuire a fermare la pandemia in corso. Oltretutto ricordiamoci anche che altre due parole che sono state citate più volte in questa rassegna sono proprio pandemia ed epidemia. Prima era un'epidemia e poi è stata definita una pandemia. Altro tema, prettamente più politico, altra parola, il recovery fund, però che si collega proprio con la necessità di aiutare i paesi colpiti dalla crisi post coronavirus. Nasce da una vecchia proposta francese elaborata con lo scopo di emettere i recovery bond con una garanzia nel bilancio dell'Unione Europea. Trattativa lunghissima da parte dell'Europa, abbiamo parlato molto di questo. Tempestività, permettetemi di segnalare anche questa parola che però non c'è stata perché ovviamente la trattativa è stata talmente lunga che si sono persi comunque mesi preziosi. MES, si è parlato molto anche di MES, il meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo Salva Stati. Organizzazione internazionale a carattere regionale nata come Fondo Finanziario Europeo per la Stabilità Finanziaria della Zona Euro, che è stata proprio istituita per trattato dagli stati membri di tutta la zona euro per fondare un'organizzazione internazionale con sede in Lussemburgo e naturalmente avrebbe dovuto fungere da fonte permanente di assistenza finanziaria per tutti i paesi membri in difficoltà economica con una capacità di prestito massima di 500 miliardi. Naturalmente però bisogna adottare delle misure necessarie a 20 come punto fermo il principio della responsabilità delle finanze pubbliche. Andiamo velocemente verso la fine della prima parte di questo 2020, un'altra parola che abbiamo imparato a conoscere e a utilizzare è DPCM, cioè da quando è iniziata l'emergenza coronavirus abbiamo sedito tante volte il nostro Presidente del Consiglio Conte enunciare quello che era stato deciso nei DPCM, cioè un provvedimento del Governo che è sempre esistito ma che in questo particolare momento sta trovando un grande utilizzo. I decreti ministeriali sono atti amministrativi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi il contenuto dei DPCM contengono delle tematiche e questioni tecniche dettagliate sia generiche relative a un settore specifico così come è stata l'emergenza del coronavirus. Stato di emergenza, arriviamo proprio ai giorni nostri, il Governo ha prorogato le misure legate allo stato di emergenza, dallo smart working al commissario straordinario, quindi sono state allungate le misure già adottate ad esempio per il periodo di emergenza totale quando appunto i provvedimenti sono stati presi. Diciamo che possiamo concludere però con una parola che possa dare un attimo di respiro e di sospiro di sollievo visto che siamo in estate, vacanze, sicuramente molti italiani non faranno vacanze sia per paura che per un portafoglio un po' più sgonfio a causa del lockdown che ha chiuso tantissime imprese, tantissime attività produttive, ma insomma cerchiamo di ritagliarci qualche momento di respiro, uso ancora questa parola visto che questa prima parte dell'anno è iniziata in questo modo e sembrerebbe confermare la superstizione di anno bisesto, anno funesto. Una pillola un po' diversa oggi però che ha voluto sdrammatizzare se volete anche su alcune questioni che sono ancora nella nostra memoria. Grazie e alla prossima pillola.